Cari amici gobbi, cari amiche gobbe, ma com'è possibile? Questa è la domanda, questa è la domanda che ho sentito molto spesso in questi giorni e che è un po' il filo conduttore delle cose di cui vi voglio parlare oggi Ho sentito la stessa domanda anche ieri mentre ascoltavo Juventibus che tra l'altro è il format su youtube che secondo me è più interessante per gli juventini mi piacerebbe molto partecipare ma come sempre bisogna pagare? No, bisogna aumentare gli iscritti quindi voi che guardate più del 70% di voi non è iscritto se vi iscrivete mi fate una cortesia perché poi ho la possibilità anche di andare a portare questi pensieri o i vostri pensieri che mi postate nei commenti perché spesso ci sono degli spunti che io prendo da lì e che condivido magari in un posto come Juventibus che è molto interessante per il confronto e per il dibattito quindi non vi costa nulla, iscrivetevi e magari mi aiutate anche a fare questa cosa dicevo l'ho sentito su Juventibus, l'ho sentito poi da tante persone è il filo conduttore di tanti ragionamenti dell'ultimo periodo la domanda è ma la Juventus scusate quest'anno ha fatto un girone d'andata con tantissimi punti anche adesso comunque sia è seconda in classifica ha avuto un mese brutto però è seconda in classifica abbastanza tranquilla per la qualificazione Champions cioè cos'è questo disastro, questo lamentarsi, questo disastro che viene decantato dagli Juventini com'è possibile che ci sia questo tipo di ragionamento da parte appunto di chi ti fa Juve e com'è possibile che la Juventus sia crollata in quest'ultimo mese quindi il com'è possibile è legato a tanti aspetti relativamente a questi due, quelli di cui vi ho detto cioè com'è possibile che ci siano queste lamentele, questa discussione tra i Juventini che siamo comunque secondi e com'è possibile che sia crollati in quest'ultimo mese ma guardate secondo me le domande sono riferite a due aspetti che però hanno una cosa in comune è possibile perché quando tu, l'ho già detta sta cosa quando tu porti avanti il concetto che vincere è sempre l'unica cosa che conta e io lo capisco che è il motto della Juve ma è un motto che va contestualizzato come tutti i motti secondo me vincere è l'unica cosa che conta se non vinci e quindi vince tutto quando tu allegri in questo caso dici che bisogna portare a casa il risultato e di fatto nell'atteggiamento e nel tuo approccio tattico evidenzi questo aspetto cioè che andiamo a non prenderle, la dobbiamo portare a casa col coltello tra i denti, zitti, testa bassa soffrire il sacrificio quando non porti a casa il risultato è chiaro che crolla tutto allora se da un lato e qui mi riferisco alla questione come mai gli Juventini stanno facendo questa tragedia perché se da un lato c'erano quelli che giustificavano che tanto siamo secondi ce la giochiamo con l'Inter se l'Inter non avesse avuto i favori arbitrali saremo primi tutte queste storie qui erano attaccati a un piccolo appiglio che era quello dei risultati perché partite come Monza ad esempio o Firenze o altre sono partite che le hai portate a casa perché ti ha girato bene l'episodio perché a livello mentale hai iperperformato e quindi mentale ma non solo di conseguenza poi anche a livello fisico hai dato di più e quindi si sono incastrate una serie di cose che ti hanno portato a portare a casa i risultati ma un filo molto fragile nel momento in cui non ti gira bene l'episodio mentalmente sei un po' sotto tono ecco che vengono meno i due elementi fondamentali e quindi com'è possibile fare questa tragedia perché se da un lato c'erano quelli che giustificavano e che adesso magari o non hanno più parole perché l'illusione che si erano autocostruiti è crollata oppure in modo fazioso non dicono nulla perché hanno il pregiudizio e quindi secondo loro Allegri va sempre bene ma qui non parliamo di Juventini parliamo di religione ok quindi o non dicono più niente oppure come nel mio caso e quello di tanti altri ovvero abbiamo sempre evidenziato che va bene vincere ma quando vinci in un certo modo e analizzi la partita ti rendi conto che è stato frutto di episodi di tante cose che si sono incastrate nel modo corretto e che nel momento in cui queste cose non si dovessero incastrare non c'è sotto una base che regge questa prestazione e crolla tutto quindi questo ragionamento io e molti altri l'abbiamo sempre fatto quindi per noi per me è stata una conferma semplicemente una conferma di cose che dico fin dal primo anno dell'Allegri Bis per altri è stato un risveglio da un sogno e quindi chi per un motivo chi per un altro fa una tragedia sportiva chiaramente poi ripeto per me è semplicemente una conferma perché sono cose che ho sempre detto e purtroppo si sono verificate ma il punto è proprio quello cioè quando tu costruisci tutto su episodi e temperamento ma o non lo dico io eh ragazzi l'ha detto anche Allegri nella conferenza stampa mi pare della settimana scorsa che bisogna essere bravi negli episodi quindi cioè non è che bisogna essere bravi nella partita nel costruire in un certo modo nel creare dieci palle da gol e buttarla dentro no bisogna essere bravi negli episodi che è una parte perché se è vero che la tensione alta ti permette di gestire anche determinati episodi dall'altra però non puoi limitarti a fare questo perché gli episodi in quanto tali sono legati ad aspetti che non sono nemmeno sotto il tuo controllo quindi quando è tutto basato su temperamento ed episodi è chiaro che la coperta è cortissima che la protezione è fragilissima e quando vengono meno questi due elementi che possono venire meno assolutamente in una stagione e crolla tutto ecco perché la tragedia perché non è semplicemente l'aver perso dei punti dall'Inter che peraltro è decisamente superiore e quando io vi dicevo che sì va bene gli episodi arbitrali ma sul lungo percorso la squadra più forte vince è così lo vedete perché sul lungo percorso ci sono i crolli ci sono le partite che invece altri portano a casa quindi limitarsi a dire vinci perché c'è gli episodi arbitrali a favore ragazzi mettetevi il cuore in pace non è così chi vince è più forte chi arriva in fondo in un campionato di calcio è perché è il più forte ok chiusa parentesi dicevo quindi questo è l'elemento che ci porta a dire a fare la tragedia e allo stesso tempo allo stesso tempo è anche la risposta chi dice ma com'è possibile che fino a un mese fa eravamo lì eh perché sempre per lo stesso motivo perché fino a un mese fa tu hai iper performato e mentalmente avevi una marcia in più quando probabilmente nella partita con l'Empoli ti è crollato questo sogno o comunque hai minato quella tranquillità che sembravi aver acquisito e ti sei presentato a San Siro non con una posizione come poteva essere e a San Siro le hai prese uno perché per il solito approccio penoso due perché l'Inter è più forte e lì è venuto meno l'elemento fondamentale che è quello del temperamento e a quel punto lì ragazzi se ti girano male anche gli episodi vedi il gol che hai preso con l'Udinese è finita è finita ecco come è possibile è possibile per questo perché hai basato tutto lì mentre invece se tu avessi fatto un lavoro differente avessi costruito qualche cosa delle fondamenta di un certo tipo certamente perdi delle partite lo stesso perché quando a livello mentale non ne hai è un problema e l'episodio ti può sempre girare male ma se hai costruito qualche cosa hai un paracadute di salvataggio hai una base che ti permette anche nelle difficoltà di avere una tua identità una tua forma una tua idea poi magari non performi al meglio però non sei il nulla come sei stato in queste partite vedi i cambi vedi l'approccio tattico avresti qualche cosa che invece adesso non c'è più per cui io ad esempio sono molto preoccupato perché non vedo niente non vedo niente vedo una barca alla deriva che deve essere portata in fondo a finestrazone e che probabilmente avrà delle altre partite che porterà a casa ma per il resto non vedo nulla tutto qua cosa ne pensate di questa riflessione fatemelo sapere e passate una buona giornata